Ma sono esattamente le 5.20, sto facendo del ritardo. Ho commesso del ritardo e sono appena entrato su Discord, ma ho commesso del ritardo perché? Perché ho appena finito di scaricare il gioco di oggi. Un applauso a me, per favore. Qui dentro abbiamo tutte delle cose che ci servono per andare avanti nel gioco, ok? I temi segui by an investigator. Allora, io ho tipo un tablet e un MF. E ce li ho su uno, due, tre. Io ho le bende. Ragazzi, c'è le luci qua, eh? No, io mi cago su. Non so che cosa sia successo, però. Ah, come... C'è quello che dobbiamo fare. Read the note next to the caravan. Che il caravan è qui, tipo. È tutto sfogato. Qua ci sono le torce, ragazzi. Eh, poi di va, è la modica. Did the work, did the work, did the work, did the work. John, my name is John. Key north, key north, key north. Oh, porca troia. Non male. Ma abbiamo altra roba da prendere qui? Avete preso tutto? Sì, c'era altra roba, ragazzi. Ah, qui c'è una torcia, regala. Gadget, the find the key. The find, ok. Bro, è terribile questa statua. Aiuto! Bellino, sta attaccando. Allora, regà, venite un attimo qui alla mappa. Vieni qua, Zazò. Come, aiuto? Allora, dobbiamo andare lì sopra, dove c'è paranormal area. Tanto vedete che c'è la mappa in alto a destra, che in live non vedono perché c'è Billy Bella, però. Cagati addosso. Andiamo seguendo la strada. Vamos! Allora, io, ognuno di noi con il pulsante della roteca, se schiacciate la rotella del mouse c'è un'abilità, che però non so che cosa faccia. Regà, aiuto! Aiuto! Oggi è successo qualcosa. Cosa è successo? Non lo so, frate. Vieni qua, vieni qua, piccolino. E se è tipo chiuso l'occhio e cominciano a correre all'infinito. Io sono diventato tutto... Eh, quella lì, penso sia la sua abilità. Ma ci abbiamo... Sappiamo dove andava, perché a me la mappa... Sopra lo gioco. Sì, sì. Sì, ma non ne dobbiamo mangiare quelli, perché sennò è brutto. Ah, merda, esci fuori! Allora, qui, vedete se... Ce l'avete le MF? C'ho il signal type. Io ho il radar. Vedete il... Il course... Ah, tu hai il radar, Billy. Ok, dobbiamo utilizzare tutte queste robe. Vedete che il... A me la course level è tipo a 500, 800. Oddio! No, no! E quindi qui dobbiamo cercare qualcosa. Ah, New Task Added to Clipboard. Eh sì, ho preso un foglio, però ho guardato un foglio. Zazzo, tu sai che sei quello un po' più intelligente tra tutti. E insomma, eh. Qui dice... At Gravestone, standing side by side, six lost souls, time can't hide. Look to the numbers, but just the last, their values, the key, revealing the past. Guarda l'ultimi numeri, ha detto. Sì. Allora. Guarda i numeri, ma solo l'ultimo. Allora, ci sono... No, ci sono sei anime perdute. Allora, James è il primo. Poi c'è Sara. Allora, Sara, dove è? Poi Sara era a sinistra. Eh, ma dove? Mi sembra. Poi UA. UA non me lo ricordo. Ma perché questa è rossa, scusatemi? Quale? Questa. Ah, lei, c'è scritto. Ah, ok. A lei? No, no. H-U-E-Y. No, se le tocchi, Sara insigne non fa niente. Ah, ho capito. Come ho trovato, tra quei nomi, dopo lo zero cosa c'è? Allora... No, devi attivare prima le altre, fratelli. James, James si è acceso. Allora, ok. Mike. Quindi il 4-3, certo. Fai UA, fai UA. Hai fatto. Poi Sara, che è qui. Mancano Marta. Ok, perfetto. Buono, buono, pulito. The office building east to the graveyard. Quindi immagino che siano quelli tutti a nord, no? Andiamo tutto a nord, venite fuori. È l'edificio a destra sulla mappa, secondo me, vedi quella a destra? Sì, ma ragazzi, dobbiamo far prima quell'altri. Cioè, a me ce ne mancano lungo. Eh, appunto, che dobbiamo fare quegli altri. Dobbiamo andare di qua. Però quello tutto a destra di qua, regà, eh. Passiamo in mezzo. Che cazzo è? Non lo so. Ho sentito su un jumpscare e basta. Sì, sì, è aperto. E c'è... Oh, Ido Cro... Ma sei scemo nel cervello, bastardo. Oh, Ido Cro... Crouching with cheese, much quieter than walking or running. Oh, no, ragazzi, c'è qualcuno qua dentro. C'è abbiamo una tasca. Pick up one of the candles in the big building. Find out what the candle is for. Regà, qui c'è una bambina che canta. Molto creepy. No, mi sa che è sopra. Vabbè, ragà, lo sta canticchendo. Che cosa è successo? So, c'è tutte le luci. Ah, qua c'è una candela, regà. This candle has been used in a ritual. I need to find a trigger that put it out. Qua un'altra candela. No, ma non le possiamo prendere, sono lì. Possiamo, proviamo sopra. Killer Roy Waseer, dice. Allora, se vuoi corretto. Allora, io sono salito sopra, ragazzi. Però mi è camminato. C'è tipo una balconata. Però sembra non esserci nulla qui, regà. Proviamo a vedere se troviamo qua un'altra candela. Fatta per un rituale. Non serve nulla, c'è. Oh, è un'altra cazzo, ragazzino. Ah, ragazzi. Ah, regà, qui c'è una freccia. This door seems to be locked. Grauciate, grauciate. Qui c'è un foglietto. No, no, no. Warwick è un stato. Ha un stato warwick. No, io devo scendere. No, devo uscire. Ho io do proprio, io do proprio. Che è la sua rassassina. Ma siamo siamo scemi. Ma ti sei fatta Billy? Oh, io do proprio. Oh, io do proprio. Ma ce l'avevo accanto. Ma siamo scemi. Aspetta, se non è la camera affamata della cripta. Senza essere catturato. Però non può uscire. Ah, cogliona. Ah, maybe I have to light something in this big building. Dobbiamo usare la candela per appicciare le torce. Le candele, Zazzo. Sta salendo sopra. Fai così, perché a me la Zazzone fa tutto. Torna qui. C'è una candela davanti. Ma cosa tu... Appicciala con la candela. E come? Ma è già accesa. E l'hai accesa adesso? Hai visto che ti ha dato uno su sette? Sì, sì. A me? Io l'ho visto. Lavoro, vieni, mollo, mollo. È vero, la candela ha i saleri bin lit. Io non ce l'ho... Non ce l'ho le candele, quindi mi serve mollo a me. Io ce l'ho, io so già dentro, pesce. No, ma te vedi, eh. Ok, un'altra l'ho accesa. Sì, io. Sì, me lo sta venendo sotto! No, ma tu sei un pezzo di merda! Hai anche il cocci, non devi venire, porco due. Pescio, mettiti qua così e continua a portarla di qua, che io faccio il resto. Ragà, eh... Tienila lì, tienila lì, tienila lì, tienila lì. No, ragazzi. Pescio, vieni, 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 vieni. Eh, ragazzi, sto un asciutto. Ok, io me lo vedo, se l'ho fatta... Me ne manca una, bravo, esci! Bro, bro, pesce, ti posso curarsi, vieni qua. Key show the way, they said. Just the key to find your way. Routy, dirà. Just the key to find your way? Sì, che cosa c'è sulla chiave? If like it wants me to go somewhere, maybe it's a look around. Vedi verso dove devi andare? Sì, fa fumo qui. Ok, allora continuiamo. Regà? Ma che è? Eh, ragà. Ma che è carina. È una bambola. Ma tu chi è per cazzo, puttana? Azzazone, non piacciono queste bambine. Ragazzi, c'è una bambina che ansi, ma io non vorrei dire. L'avete sentita? Che cos'è? Non ho sentita. Regà, regà! Ma siete tutti dentro? Ok, è un rituale. Regà, c'era tipo uno Slenderman. Mi sono nascosto. Ti spivo tra i due fani, ritorno. Here, but why? C'è una porta qua sotto, mi dice, è bloccata. Ah, prova ad aprire qua, Zazzo? No. Di storo se mi trovi l'ogga. Ma magari non è qua, eh. Vedi dove dovete dare la... Il fumo mi porta al di fuori di qua. E allora dobbiamo continuare di qua, Zazzo? C'è fuori di qui. Sì, comunque dobbiamo scrivere qualcosa, eh. Mi sa che è quella lì a sud. Magari! Pesce? È solo suono era, poi. No, no, ce l'avevo io davanti, Zzi. Non si... Sì, di qua. È tirato l'invisibile. Usa un Thermal Detector così bene. Io non apri niente. Io non apri niente. Che non uso l'isability. Ce l'ho io, forse, il Thermal Detector? Come aiuto? Mi ha portato di fuori, regà, qualcosa. Eh, significa che... Oh, c'è una cosa vicino a te. Eccolo. Io lo vedo. L'ho aperta, l'ho aperta. Sto sotto, l'ho aperta. Era questa volta qui. Ok. No, di qua sono in the basement. Dobbiamo scrivere. Dobbiamo scriverlo. Due ce ne sono, in realtà. Occhio, Billy. Spostati, spostati. C'è il mostro qui, regà. È qui dentro, è qui dentro. Zazzo, spostati. Regà, tocca a droa. No, sta arrivando. Vedi qua c'è scritto 87-0, regà. Ce l'ha con me, regà, eh? Nella casa ci sono degli indizi per capire quei numeri a che servono, ok? Ok. Tipo in questo quadro c'è scritto 87-0, non so cosa voglia dire. Mi sto seguendo. Quindi cerchiamo altri... Cerchiamo altri numeri. 84, 84 qui sopra. 84 e L? No, ragazzi, è qui sopra, ma io come faccio a sfuggirgli? Ogni numero c'è un coso, regà. Ogni numero c'è una letta. Ah, è vero. O e L. Zazzo te li muove. È l'opera adesso. Vedici cos'è quella... E non so se... 80-0. Bro, di 92-t. 80-h. Guardami le spalle, ti prego. Ok, me ne mancano due. 90-93. Chi è che mi ha preso? Eh, mi prende a me. 93-93 dovete trovare, regà. Non è messa a più a me. Marco, due, in odio. Non va ammazza, dai. No, 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 no. Ma lui sta qui. Sì, è la U. Eh, mi ha preso, non si può passare sopra adesso. Fatto, fatto. Bravo! Wow, guarda, ma zazzo! È qua dentro. Io ho ancora una candela. Sono dentro il portale? Sì. Ma lo prende. Chi cazzo è? What the fuck? L'avete preso? Nel vostro investigatore potrebbe trovare alcuni item interessanti. Dopo la pagina di save, troverai questi item qui. Ah, ok. Ma la candela te ce l'hai ancora dietro, Mollo. Sì, ti serve? No, no, ce l'ho. What the fuck? Parco 2! Regà, aspetta, qua c'è una mano. Parco 2, che è successo? Mi stanno... Raga, perché mi sto muovendo da solo? Regà? Dietro di noi? No, è il boss di Dark Souls. Ragazzi? Ragazzi, fuggite. Ragazzi, c'è il boss di Dark Souls dietro. Non vi bloccate, non vi bloccate. Regà, qua c'è qualcosa di verde. Oh no, è un codice. Oh no. Questo è proprio quello. Ah, eccole le piattaforme. C'è un libro per decifrare i simboli. Ok, troviamo sto book allora. Ho trovato qualcosa. C'è un libro. C'è un libro. Ok, portalo di là. Portalo dove... Alle piattaforme, PESH. No, no, PESH. C'è un merda addosso, una suora. Dovevo trovare degli simboli in giro. Ah, allora ho visto, ok. Ho capito quali. Le ho viste prima di qua, Zazo. Vedi questo? Eh, mi si regala. Di simbolo di spring, si to be kind of France. Ma raga, ma non è che se salto sopra una delle cose si apre qualcosa? Scusami, mettiti sull'altra scritta tei, quella bianca. No, l'abbiamo già fatto. Il bianco è danale. Quella bianca, quella bianca, quella bianca. Quella bianca, quella bianca. Quella bianca, girati. Ok. Adesso andiamo sul verde. 3, 2, 1, vai. Arancione. 3, 2, 1, vai. Viola. Vai. Presa la lanterna. Prendo la lanterna. Ok, con la lanterna vieni, Billy. Qua sotto scendi, 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 scendi. Quindi con la lanterna, Billy. Vieni all'altare. Vieni all'altare. Vediamo che cazzo succede. Qua è l'altare. Ah, oddio. Ti vedi. E beh, qui? Clicca e questo... Come la giochiamo? Eh, raga, clicchiamole tutte, vaffanculo. Ah, no, è quelli attentativi, raga, dai. Dovemmo trovare la combinazione. Questa è la prima. Questa è la seconda, terza. La terza. Oh. Parta. Secondo me no, ragazzi, eh. E invece. Oddio, ma siete in Clatcher. Siamo fuori, ragazzi, ma... Non abbiamo fatto questo. No, non ci fa... Non ci fa correre, no. Dobbiamo andare di qua, ma non ci fa correre. Something does not want you to run. La course qui non è neanche troppo alta, in realtà. Raga, a sinistra c'è la... La cosa. Paranormal object, me la... Ah, c'è lo Slender's Ball. Ah, raga, c'è una casa qua davanti. Ah, ci sono passate attraverso. Si può correre qui? Ok, dobbiamo... Possiamo prendere delle cose interessanti. Lisa's Diary, Smells and Luke's Bird Melodies in Ashes Orco 2, ma sei scema Mi sa che era tipo il prologo No, no, mi sa che tipo il prologo è il capitolo 1 Poi c'è una battaglia No, è questo il capitolo 1 Ho preso una borsetta Ho preso una borsetta Allora, c'è un calice Allora, qui bisogna posizionare la carta, credo, eh Qui dice Dobbiamo anche trovare No Primo di molti Ragazzi Ah, 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 la bambula, la bambula, la bambula, la bambula Bambula Falti come effetto Dava a to, mamma Oh, frate, 360 Arriva, arriva, arriva 360, boom Ragazzi, le candele perché si possono spingere? Oh, no Eh, mi sa che qualche puzzle Con i simboli stavano sotto Vado sotto un attimo, aspetta Ma io ti ammazzo Frate, ho semplicemente aperto una porta Che problemi hai? Poi è bellino sto gioco, però, eh Ragazzi, è quella che hai visto a seguire Che ce l'ho dietro È vero? Che è sta roba del concerto? Porco due, sembra Maria Sofia Ah, ci avano buchi Le domeniche d'agosto quando ne vede cadrata Ma secondo me siamo troppo in avanti qua, sai Ma questa è una stagione rubata da Kino del Totten Ma identica Secondo me stiamo troppo avanti È per quello che ti dico Hai visto? No, che cosa? Dove? Ma non sono tanti È vero? No, per caccio Le ho chiesto la poca No Porcaccio il signore Non ho capito Che cosa? Ok, qua si riniziava Vieni qua, mo Ma stiamo andando in piedi Senti, in questo caso Bro, sono gli strumenti che stanno sotto Se non erano fatti in ordine come qua Vabbè Eh, ci sta qualcuno che... Uno sta lì e uno va là Eh no, come fai? Capì Vabbè, in che senso? Ma cosa stai facendo? Però anche di qua vedi Zazzaro che c'è roba Vieni qua Vieni qua Basta Ok, Lisa e Samuel si chiamano il padre A questo possiamo rispondere Vabbè, va che era dietro Cosa da prendere C'era dietro, c'era dietro la vica Magari Magari avanti Ah, la bambola se n'è andata Ok, allora qua sopra c'è la risoluzione a tutto, credo Aspetta C, F, hashtag Fatto Stavo tutto sbordato io Ink bottle Basso Aspetta però, devo arrivarci Basso Violino Pianoforte No, basso F, flauto Ok, aspetta Questo cos'è? Un flauto mi dà Samuel no? Era il nome di papà? Basso Basso F, flauto Violino F, flauto Non, 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 non Chi hai trovato? Chi hai fatto? La carta Io Con le candele Non vedete un violino? No Con la scritta di chi è mamma e papà Adesso vado un attimo da pesce Non ho un flauto bro Eh, perché gli mette qua frate Non mi sa? No Che cosa devo mettere qui? Oh, sta parlando Sta parlando Eccolo Violino Poi Secondo me bisogna farlo sentire a lei E tra l'altro so dove Oh, oh Che c'ha? Ma tutti insieme E partite C'è il music box C'è il music box C'è il music box C'è il music box Ok, era giusto Devo farselo più veloce Ok Era giusto ma lo elettavo Ok Il music box, ragazzi E che facciamo, ma? Occhio pesciote Stanno coltellando Vieni qua, vieni Vieni, stai Vieni, stai Vieni, stai Vieni, stai Vai, io ho aperto, aperto Oddio Sono forte Sto gioco Walk through the door To the right And see how times change You should see Ah, raga Qui cambia Cambia il tempo Ragazzi Dice di andare solo Sulla destra Sì E torniamo indietro nel tempo In questa casa Vedete che ci sono altre porte Ah, vedi Qua sono i quadri Ah, no In realtà Secondo me adesso Noi Se andiamo sotto E vediamo Le cose delle candele Eh, esatto Proviamo È vero Allora Qui c'è Stavo il quadro Che c'è sotto Eh, quale Ti richiamo Ah, qui vedi Ci sono tre quadri Eh, no Mi devi dire Mi devi dire Allora Ce n'è Uno con La Con un tipo Con capelli lunghi E mezza armatura Giornano Giornano che mi accortella Vedi Sono questi Zozo Che sopra Non ci sono In realtà C'è la bambola Allora Uno è la F Di Candela È la F Penso sia questa Poi c'ho Di Camilia E capelli lunghi Ricci neri E poi c'è Maria Con Gesù Allora La F È questa F3 Eccoli Ok Qual è il 3 Che intendi tu Questo qui O questo qui Allora l'altro Lo devo spegnere E poi c'è quest'altro qua Vedi C'è la La donna Con il bambino In braccio Su questi tre quadri qui Maria È tipo La X X per X Molto sus In culata X giusto Fatto È venuta Fatto Ha aperto qualcosa Eh no Però su questo Eh aspetta Eh no Ci ha dato la feather pen Però Ok Giusto Ragazzi È la bambina Che ti dà le cose Eh no Dobbiamo andare a fare il diario Dobbiamo all'entrata E che rientri Mello di si nasce Raga What the cause of the house fire No raga Si sta incazzata Raga no no Bisogna rispondere Le domande da sta buttana Raga Come to the living room Dice Ci chiederà come si chiamano I suoi genitori Sì esatto Come si chiama What the cause of the house fire Eh lo dobbiamo Lo dobbiamo leggere Vado sopra Vado sopra Vado sopra Vado sopra Allora Ok Sì perché è andata In fiamme la casa Ho accettamente Lasciato una candela Troppo vicino Ok candle Quindi Which game do you want to play Tag o hide and seek Secondo me è meglio Non scondire Dobbiamo vincere Porco due raga No No Per carione Tu ha scaduto clipboard Abbiamo vinto Ah dobbiamo correre raga Corri 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 che male Corri E ma dove Estra Estrai L'anima di Lily Dalla bambola I coding a this With a fire source Raga ci serve la candela Io ce l'ho Ce l'ho io ce l'ho Eh dobbiamo Ci sono delle cose da bruciare Qui a me me la da Ok Qua 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 Questa qua Eh ce la sono con Pesh Quindi deve Deve farne Pesh Io non c'ho luce È quello più stupido Yada Non ce ne voglio Bravo Porco due Vedi che c'è sto una Fammi vedere qua ci dovrebbe stare un'altra cosa qua Qui anche qui altre qui altre nel corridoio qui No non c'è più Qui ce n'è un'altra però Peshaw Dove? Anche qua sopra Qua sotto Dove ti prendi la candela eh No non c'è più Eh penso che sia morta È morta Decide Lily's fate Burn hair Spare hair Cosa facciamo? La bruciamo O la lasciamo? Ci annuncia Io sono una bambina La bru... In gioco Brucia merda Che succede qua? Dobbiamo darci un altro? Raga Lily's soul jar Lily's soul Inventory's full Prendetelo raga Posso lasciare Oh porco Ah Madonna Siamo tornati all'inizio Buono Bring Lily's soul to the altar In the cave Behind the portal And beware of the entity The destrapped the souls Alcarion porco 2 Non è riuscito E' riuscito Mi state buttaggiù Ma cosa che sai da fare car? Qua qua venite 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 Eh mi combazzo a tutta Saltate La vostra è un'interna che c'ha lei Destra Atte Giro di Avanti Messa Combo clazzo Buono Passiamo fortissimi Vai Aspetta La candina è zio Ma io me lo so Ma siamo Dove c'era il coso C'è una chiave C'è la porta qua sotto Prova un po' bro No No? Eh scusa No però c'è il fumo Che è come se mi dicesse Devo andare ancora Ok Non vedete fuori Qua dentro Eh si è qua dentro Da dove siamo tu? Da destra Si stanno tre case Ce ne sta una sopra Una a destra Una sotto Si Quella sotto Ho detto benvenuto Un'altra Bamba Sì Madra butta Dear mollo We will meet soon I'm looking forward to it Lily Passato attraverso Come dear mollo Ascappate Ragazzi No siamo andati dentro Solo enigmista Allora secondo me Correre così Prima ci schiantiamo Con qualcosa Io mi sono dovuto Schiandare con qualcosa No tutti Penso tutti No no Thanks for playing Captain 1 Ancora Abbiamo finito We're not That's in bugs I'm getting up For Captain 2 Oddio Vabbè zio Però poteva metterci Il carattere 2 Il carattere 2 Il capo Vabbè ci poteva metter Bello però Porco 2 Che manata Bello Per essere un horror In early access Carino Per essere un horror